I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e del RIS di Roma hanno dato vita a una perquisizione nella sede della Direzione Generale dell'Inps, notificando un'ordinanza di esibizione di documenti per esso le direzioni regionali dell'Istituto. Obiettivo acquisire riscontri di natura informatica e documentale. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine più complessa denominata Mastrolindo, che finora ha portato all'esecuzione di 44 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori e professionisti e al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 137 milioni di euro. Dalle indagini è emersa la costituzione di diverse aziende inesistenti e attive nell'agronocerino sarnese e operanti nel settore terziario, come ditte di pulizia, sulle quali esistevano migliaia di falsi rapporti di lavoro al fine di ottenere erogazioni previdenziali e assistenziali dall'Ibs. Ulteriori particolari dell'inchiesta le ha forniti il colonnello Riccardo Pirmarini dell'Arma dei Carabinieri. Sono questi sviluppi di oggi con l'attività su Roma e in altre direzioni regionali dell'Inps, diretta dalla Procura della Repubblica di Nocera. È un ulteriore capitolo di un'attività significativa che ha portato nel tempo già importanti risultati.